Eccoli gli unici suoni fedeli alle radici di una rassegna votata agli esordi alla musica del diavolo e poi negli anni sempre più tentata ad avvilare verso altri vidi. Il blues finalmente di Loccerossa in chiama l'auditorium del Conservatorio di Cagliari con una serata che ha proposto un'ideale parabola dello sviluppo di questa musica dalle nostre parti. Subito in un uomo del santo Francesco Pia, il consolidato con uno dei padri del blues nostrano Fabio Trevespoi. Per il chitarrista Diosio è stata la conferma della straordinaria maturità acquisita in questi ultimi anni che lo hanno imposto ormai come punto di riferimento della scena italiana. Tecnica travolgente alle chitarre, geniali intuizioni, perfino con il washboard, messo da parte il dobro a Francesco Piuso e dimostrato il padrone della scena con un concerto vibrante e coinvolgente tra Robert Johnson e Ray Charles e un feedback continuo con il pubblico. Dal one-man band al gruppo dell'armonicista di Lambrade, Fabio Treves ha chiuso a Cagliari la serie di concerti di un anno che ha celebrato i 40 anni della sua attività e lo ha fatto con una performance a tratti esplosiva per la straordinaria forza delle chitarre di Alex Gariazzo e Guitar Ray e la ritmica precisa del saldo di origini Massimo Serra con efficaci richiami e citazioni a tutto l'universo blues.